L'Asle Salerno, distretto sanitario 69, ha comunicato che dal 1 luglio fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il servizio di assistenza medico-generica ai turisti e cittadini non residenti, presso il presidio appositamente istituito in via Torre di Mare, scuola primaria Licinella, in località Laura, presso il litorale, all'altezza della spiaggia libera adiacente Lido Brigantino. Sarà presente inoltre un gazebo per prima assistenza, defibrillatore ed allerta ambulanza. Sul territorio comunale l'Asle Salerno metterà a disposizione un camper mobile che fungerà da potenziamento al 118, tutto ciò soprattutto in ragione del fatto che Capaccio Pestum registra, in modo particolare durante la stagione bagnare, un'alta affluenza turistica, il lungo litorale costiero ogni anno accoglie migliaia di villeggianti e un servizio di assistenza medico-generica risulta essere di grande utilità.